il concilio vaticano secondo non è riconosciuto da tutti i cattolici essi sono detti cattolici tradizionalisti o anti modernisti dedicato il mio secondo video anni fa a questo argomento alcuni di essi sono tutti gli effetti cattolici anche se continuano a dire la messa in latino e a criticare ogni cosa vagamente progressista nella chiesa compreso il fatto che le donne non indossano più il vero in chiesa il fatto che la messa non si dica più in latino loro credono di opporsi all'eresia modernista confondendola con tutto ciò che può essere classificato come moderno a seconda dell'epoca in cui ci troviamo ho già dedicato dei video oltre che a questi cattolici anche la confusione tra modernismo e progressismo altri di questi cattolici sono sedevacantisti cioè credono che tutti i papi da giovanni ventitresimo o da paolo sesto per alcuni siano eretici massoni e satanisti credono che essi siano in realtà degli antipapi e che la sede papale sia vuota per questo sono detto sedevacantisti e gli altri sono sedeprenisti i più noti sedevacantisti sono i lefevriani che qualcuno di voi forse se li ricorda perché alcuni lefevriani hanno dichiarato di essere dei negazionisti dell'orocausto i cattolici tradizionalisti sono netti oppositori di ogni forma di darwinismo oppositori di freud e della psicanalisi in generale ogni idea vagamente di sinistra o anche democristiana o di ogni cosa che intocchi intacchi ciò che la chiesa era prima del concilio vaticano secondo non solo può capitare che alcuni di essi siano addirittura monarchici e che inneggino al papa re cioè praticamente al vecchio stato pontificio quando il papa era soprano assoluto di un territorio che comprendeva quasi tutto tutto quasi tutta l'italia centrale e loro idee politiche anche se spesso negano sono di destra o detto di estrema destra in certi casi anche nazifascisti tanto che appunto come dicevo prima fra i lefevriani ci sono dei negazionisti dell'orocausto è facile sentire loro parlare male degli immigrati dell'interculturalità degli omosessuali degli ebrei dei comunisti addirittura loro sono nostalgici nostalgici di quando nella messa negatino si diceva la capelghiera ai maledetti ebrei o una cosa del genere si diceva cosa che è stata tolta nella messa nelle lingue nazionali però in realtà parlano degli ebrei però c'è una cosa positiva che parlano male di alcuni aspetti del capitalismo parlano male della massoneria dei lati effetti come devo dire effetti collaterali della multiculturalità e della globalizzazione che non ha solo lati positivi però sono anche contrari alla parità di genere e ogni ruolo della donna nella chiesa sono convinti che la donna deve essere sottomessa all'uomo e obbedire al marito anche nella società però le donne non devono essere pari all'uomo credono che addirittura le dire messa nelle lingue nazionali sia opera di satana perché allora questa cosa ricorda la torre di babere che solo il rito tridentino sia quello giusto anche come vi illustravo prima già prima del concevo in pratica o secondo c'erano i cattolici di rito non latino però quando conviene l'uomo è diventato nazionale importante perché loro sono convinti che bisogna difendere il nazionalismo a ogni costo sono convinti che dove si dice messa nella lingua nazionale ci siano omosessuali figli dei fiori bolshevichi suori in bikini concerti rock e cose simili stati però in realtà anche fra i cattolici di rito orientale ci sono gli antimodernisti come patriarca greco cattolico di kiev il quale si è espresso prima o contrario alla bellificazione di giovanni paolo ii perché per lui era un eretico da scomunicare e pronunciato un anatema cioè una scomunica grave nei confronti di papa francesco perché secondo lui avrebbe fatto delle cose terribili come appunto canonizzare giovanni paolo ii e accettare a suo dire gli omosessuali nella chiesa cosa che in realtà non è vera per questo tutte queste ragioni qua io faccio prima chiamarli catto monarcho fascisti